Ho giocato poche partite in questo girone, ma mi rendo conto che è comunque molto equilibrato. Ogni partita nasconde delle insidie e non ti permette dei cali di tensione. Per quanto riguarda la squadra, ho trovato una squadra che sa quello che vuole, una squadra che comunque ha un buon mix di giovani ed esperti. In difesa, per esempio la Feralpi, la differenza è che magari c'era una persona che guidava la linea in maniera più personalità, nel senso che era più esperto e quindi il legato di turno qui non c'è, ma questa può essere una forza per noi, perché ci dà forza al reparto, nel senso che ci dà delle responsabilità maggiori a tutti e quattro i difensori del reparto, essendo noi tutti e quattro giovani, chiunque scende in campo. Il Catanzaro, secondo me, è sicuramente una corazzata. Non lo temo perché comunque in queste partite viene sempre fuori qualcosa di positivo da noi, come ho potuto vedere nelle partite importanti che abbiamo disputato. Quindi tiriamo sempre fuori qualcosa di più magari di quello che possiamo fare. Per cui il Catanzaro è una squadra attrezzata per essere tra i primi tre o quattro posti. La temo come tutte le altre partite, sinceramente. Dovremmo avere molta concentrazione e alta attenzione, ma questo non deve mai mancare. Hanno grandi individualità, conosco diversi giocatori, per cui dovremmo avere l'atteggiamento giusto, dovremmo essere determinati e cattivi su ogni pallone, perché comunque le loro individualità possono creare giocate da un momento all'altro.